Musica ...dipine Germano Todeli di Cervia Milano Marittima dove si svolgerà l'incontro di calcio tra Cervia e Bacchia Cesenatico sarà previsto un minuto di silenzio in memoria dei... ...della sovrapposizione di Matteo Cangoli però preferisce per il fratello gemello Claudio che allarga su Parabegoli Parabegoli da lontano, tiro insidioso che però finisce a lato Parabegoli in avanti, parte il tiro, assolutamente, tiro direttamente il portiere resto che forse non si aspettava proprio sul primo palo, questo pallone Parabegoli, Parabegoli chiede il triangolo, non gli ritorna Claudio Cangoli dice per Parabegoli, Claudio Cangoli Prende la rincorsa ed è parata, parata da parte di Bernabini ed è parata Parabegoli, parata da parte di Bernabini Per Zagno, Zagno di nuovo, le riscose che passa direttamente a Matteo Cangoli che mette il pallone, il gol Perfettazione su Zagno di Irvi, la Milano è rinforzata Perfettazione di splendido Matteo Candoli che mette il pallone Scortettini scortettini per Fribuglietti Fribugliettoli che tira la lunga distanza Oreste però una parata plastica mette in calcio Milsoni, Claudio Candoli per Matteo Candoli Veramente i due gemelli non mai fermi in questa partita Sono fiscato un fuorigioco da parte di Zagnoli